All'inizio del contatto organizzato Julian Okorowicz, 1850-1917, metapsichista polacco All'inizio del contatto organizzato con i piani di esistenza superiore, nella sua opera principale La suggestione mentale, L'Okorowicz si dedicò a indagini sulla telepatia in stato di veglia e ipnotico, dimostrando di poter ipnotizzare e guidare a distanza il soggetto. Interpretò la telepatia come un'emissione energetica da parte della gente tale da suscitare un pensiero corrispondente nella mente del percipiente. Credette di avere spiegato la tele cinesi con l'ipotesi dei raggi rigidi. Anche per l'ectoplasma suppose che gli oggetti levitati fossero sostenuti da raggi rigidi che uscivano dalle dita dello strumento. Sembra che questi fili furono visti ma quasi soltanto da L'Okorowicz e anche le sue ipotesi mentali furono abbandonate. Grazie. 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 Grazie.